salve a tutti oggi vi mostro com'è facile creare una presentazione accattivante dal punto di vista grafico con adobe spark scriviamo appunto nella barra di ricerca di google adobe spark il primo link è quello utile quindi spark.adobe.com non dobbiamo fare altro che registrarci se non lo abbiamo ancora fatto oppure cliccare su accedi se dobbiamo registrarci possiamo registrarci con un account istituzionale del nostro istituto oppure con il nostro account privato di google di facebook con un id apple con una mail privata io proseguo con il mio account di google seleziono l'accanto corretto ed ecco che mi porta all'interno della mia pagina personale di spark adobe dove si trovano già tutti i miei progetti spark adobe permette di creare non solo presentazioni ma anche molti progetti grafici per cui per esempio ci permetterà di creare un volantino una storia di instagram un post di instagram o di facebook un collage di foto una pagina web un video un progetto diciamo di grafica in questo caso noi per creare la presentazione ci posizioniamo su pagina web ecco come compare la struttura della presentazione che stiamo andando a realizzare ci posizioniamo su aggiungi un titolo e andiamo a scrivere il titolo che daremo alla nostra presentazione io in questo caso crea una presentazione ovviamente come prova sugli stati uniti quindi USA metto un sottotitolo viaggio alla scoperta degli stati uniti d'america ecco che posso andare a selezionare i temi per esempio per cui mi andrò a selezionare il font che intendo utilizzare in questa mia presentazione selezionandolo tra diversi modelli e poi metterò una copertina un'immagine di copertina per le immagini posso andare a caricare una foto che ho precedentemente salvato nel mio computer oppure posso fare una ricerca tra gli archivi gratuiti di adobe che accede appunto a questi archivi di immagini accessibili oppure posso andare a sincronizzare il mio account con l'archivio dei miei documenti dropbox oppure con google foto o ancora con google drive diciamo che gli archivi delle immagini di adobe sono già molto ricchi per cui per esempio se io scrivo USA bandiera ecco che mi compaiono tutta una serie di ricerche di immagini e posso andare a selezionare l'immagine che mi pare più pertinente in qualsiasi momento io posso posizionarmi ancora una volta sul tema e andare a scegliere un tema che mi può sembrare più adatto o che mi convinca di più come vedete davvero ci sono diversi diverse tipologie quindi scorriamo per iniziare a scrivere la nostra storia e compaiono gli strumenti principali appunto di spark adobe per cui posso andare a inserire una singola foto posso andare a inserire del testo posso andare a inserire un pulsante per aggiungere un link attivo all'interno della mia presentazione posso andare a incorporare un video posso andare a inserire una griglia di foto per raffiancare tante foto messe insieme posso creare uno scorrimento di immagini glide show quindi oppure un layout suddiviso vediamo subito intanto scriviamo un breve testo per iniziare per introdurre la nostra presentazione quindi viaggio storico geografico alla scoperta degli Stati Uniti ovviamente scriveremo quello che ci sembra più opportuno io in questo caso vi sto dando soltanto l'idea per come si può realizzare una presentazione è chiaro che una presentazione di questo tipo necessita di un ragionamento e di uno storytelling diciamo un po' particolare noi in questo momento stiamo andando a vedere i pulsanti gli strumenti principali per costruire la presentazione quindi diciamo che quando scriviamo il testo possiamo andare a selezionare il formato che vogliamo dare a questo testo quindi se vogliamo scriverlo molto in grande un po' più in piccolo o se vogliamo scriverlo un po' in corsivo come se si trattasse di una citazione dopodiché come vedete c'è sempre la possibilità sopra e sotto ad ogni elemento di andare a aggiungere come vedete elementi aggiuntivi in questo caso andrò a mettere un'altra immagine non voglio però più cercare la bandiera degli Stati Uniti cerchiamo qualcosa sugli Stati Uniti in generale vediamo se ci può fornire degli input ecco qui abbiamo inserito la singola foto adesso mi dice la vuoi agganciata cioè riquadrata all'interno della presentazione oppure a tutto schermo oppure come una finestra che si ingrandisce o rimpicciolisce diciamo e poi questi sono gli elementi per cui mi permette di spostare la mia immagine in su o in giù posso andare a inserire una didascalia quindi New York oppure potrei andare a sostituirla chiaramente o a eliminarla dopodiché posso andare a aggiungere uno degli elementi più interessanti sicuramente della presentazione di Spark Adobe è questo che si chiama Glad Show cioè che mi permette di aggiungere vi faccio vedere selezionando delle immagini un po' casuali di aggiungere diverse immagini in successione quindi che scorrono una sopra l'altra per cui andrò a inserire delle immagini in questo caso che sono caratteristiche degli Stati Uniti ma vi faccio davvero vedere l'effetto quindi vado a selezionare alcune immagini potrei aggiungerne delle altre potrei caricarle per esempio da altri elementi quindi per esempio non soltanto da lì ma vado a caricare carta degli Stati Uniti clicco su salva ed ecco come compare la mia presentazione in questo momento quindi questa era la nostra copertina con un breve titolo e sottotitolo una parte testuale un'immagine a tutto schermo con la didascalia posta qui sulla sinistra qui siamo in fase di struttura quindi vediamo gli elementi che si sovrappongono e poi qui le nostre immagini in successione in cui vedete questi riquadri trasparenti con il pulsante più e come vedete c'è l'integrazione di un'immagine sopra l'altra quindi torniamo qui nella nostra prima immagine e qui come vedete possiamo andare a aggiungere del testo scrivendo la statua della libertà simbolo degli Stati Uniti non lo so chiaramente potete scrivere tutto il testo che volete potete aggiungere sempre un link per cui per esempio cercheremo statua della libertà posso aggiungere il link in questo caso banalmente di wikipedia copio il mio link lo vado a posizionare qui qui scriverò il testo del pulsante quindi scriverò wikipedia statua della libertà e qua sotto andrò a incollare il mio link posso decidere che l'allineamento sia centrato piuttosto che a destra o a sinistra e poi clicco su salva ecco qui il mio link attivo benissimo dopodiché posso andare a aggiungere anche un video se voglio oppure una foto all'interno della foto posso andare a inserire o faccio una ricerca oppure devo andare a fare carica foto quindi proviamo a cercare se c'è statua della libertà ecco guardate non c'è neanche bisogno quindi di andare a inserirla e a caricarla e ce la troviamo esattamente qui possiamo andare a inserire la didascalia statua della libertà perfetto scorriamo e andiamo ad aggiungere nuovo testo oppure possiamo andare a aggiungere in questo caso vi faccio vedere come incorporare un video ecco che andiamo su youtube e scriviamo monte rushmore naturalmente in questo caso io scelgo un video qualsiasi faccio copia il link vado nella mia presentazione e vado a incollare il mio video ecco che ho incorporato all'interno della mia presentazione un video io andrò a scrivere del testo qua sotto guarda il video relativo al monte rushmore ed ecco qua è così di seguito dopo di che abbiamo aggiunto i vari elementi che vogliamo integrare se io dovessi decidere di spostare ad esempio le foto come vedete per esempio non voglio più questa foto la trovo inutile nella mia presentazione voglio eliminarla l'ho eliminata semplicemente oppure se voglio andare a spostare questa foto che ho posizionato in basso in alto perché ad esempio voglio parlare prima di questa di questa immagine poi nella presentazione parlerò in basso come vedete ci sono queste freccette che mi permettono di portarla indietro o di spostare la mia immagine avanti oppure con il cestino di eliminarla completamente o di andare a sostituirla con un'immagine diversa quindi a questo punto salviamo e possiamo andare ad aggiungere altri elementi possiamo andare ad aggiungere per esempio una griglia di foto per cui in questo caso vi faccio vedere semplicemente come si vanno a posizionare diverse foto che rappresentano appunto elementi simili in questo caso io sto creando appunto una griglia una griglia che mi permette di mettere insieme tanti elementi grafici simili anche qui salverò e ho creato la mia griglia di foto come vedete la disposizione è un po' automatica ce la dà un po' un po' in automatica ma io posso andare a modificare la mia griglia spostando per esempio indietro in avanti e così via quindi posso un po' andare a assemblare come voglio al meglio la mia griglia di foto ecco qui quindi abbiamo visto come si fa ad aggiungere una singola foto un testo un singolo pulsante quindi se volessi aggiungere per esempio un link relativo a stati uniti banalmente ancora una volta vado a cercare il link degli stati uniti su wikipedia e lo inserisco qui incolla stati uniti su wikipedia lo posiziono al centro e vado a salvare così si compone tutta la mia presentazione quando mi ritengo soddisfatta della presentazione che ho creato o man mano io voglio vedere l'effetto e il risultato della mia presentazione mi posiziono in anteprima e come vedete mi comparirà la presentazione che ho creato un attimo di tempo per caricarla ed ecco qua quindi come vedete è davvero molto semplice andare a creare una presentazione da un effetto grafico davvero piacevole e curato in cui c'è uno scorrimento di immagini l'integrazione di altre immagini di testo di video quindi davvero con una strumentalità molto semplice cliccando sull'ex torno sulla struttura ma io diciamo che mi reputo soddisfatta e quindi vado a cliccare su condividi cliccando su condividi mi dà la possibilità di pubblicare il mio lavoro darò un titolo USA mi dà la possibilità di far comparire il mio nome nella presentazione in fondo lui in automatico andrà a mettere i credits quindi le attribuzioni alle immagini quindi come vedete le immagini presenti nell'archivio sono già coperte con le attribuzioni corrette dopodiché posso decidere di inserire la mia presentazione nel database di Adobe Spark oppure di non farla presente posso andare a scegliere la categoria e ovviamente andrò a selezionare la categoria istruzione e clicco su crea collegamento una volta che ho creato il mio link non devo far altro che copiarlo e condividerlo dove preferisco oppure semplicemente cliccare su i vari simboli quindi per condividerlo via Facebook tramite Twitter oppure con il mio con la mia classe di Classroom con il mio Teams di Microsoft oppure inviarlo via mail o incorporarlo addirittura all'interno di un blog o di un sito che ho già con questo è tutto io vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial a tutti i dati a tutti i dati ho già a tutti i dati il mio